Cavorra! Non mi sforzi più! C'era rinvenuto, ringraziamo Dio! Oddio, chi siete? Dove vi trovo? Che giorni è oggi? È 8 settembre. State qui a Scaritto. Tanto tranquillo! Abbiamo trovato la stazione bombardata. Tragliatevi. Gli unici che corrono meno ricchi. Ma noi ci sono soldati. Noi ci sono soldati. Ma che va vestirà così? Ma giusto, calmo, calmo. Sono stato io. E come vi siete permessi? Ma come hai detto? Perchè tira aria cattiva. O dico, i fascisti e i tedeschi sono inferociti. Si dice anche che stanno rastrellando tutti i carabinieri. I carabinieri, ma come volete? Fanno pazzermi. No, ma è la verità. Stanno arrestando tutti i carabinieri perché sono fedeli al re. Natural, la federissa. E intanto l'altro scappa. E chi scappa non è degno di essere re. Ma come? Il re scappato? Si, è andato dagli alleati. Ai tedeschi? No, dagli americani. Sono i nostri inveterati nemici. Lo erano. Adesso sono alleati. E i tedeschi non sono più alleati. Perchè per loro gli alleati sono sempre nemici. E si sono alleati coi fascisti contro Badoglio. Badoglio è ancora al governo? No, è scappato pure lui. È scappato. Io non ci capisco più niente. Ma perdiamo tempo. Ragazzi andiamo. Ma che fate? Io non ci capisco più niente. Non preoccupatevi, non siete il solo. Che è successo? Che cosa? No. 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 No.